Si chiama Richapet 3, il nuovo lavoro discografico del biorepper bresciano Dellino Farmer, terzo capitolo della saga Richapet, uscito a 12 anni di distanza da Italian Farmer raccolta dialettale che ha lanciato l'artista. Dellino da Manervio nel suo ottavo album ha voluto raccogliere i brani scritti negli ultimi due anni che sono stati segnati dalle difficoltà legate alla pandemia, sempre attento ai temi sociali e alla difesa dell'ambiente della sua amata bassa bresciana. Comprende tutta una serie di canzoni delle quali alcune dedicate anche a delle società sportive, ad esempio ho dedicato la canzone per il Calvisano Rugby, per i 50 anni del Calvisano Rugby, la canzone per il Karate Genocchio, la canzone per i ragazzi del Petost di Campagna di Lonato e poi ci ho messo dentro anche tante altre canzoni, alcune inedite, alcune già pubblicate, e insomma un bel purpurri diciamo di canzoni, alcune con temi un po' più seri, un po' più impegnati, alcune con temi un po' più di ricarica e di voglia di fare anche proprio dall'attività sportiva. Insomma, principalmente sono dialettali, però c'è anche qualche brano ibrido dove cerco sempre un po' di mischiare un po' quello che è il dialetto, un po' quello che è l'italiano, anche perché comunque io da qualche tempo a questa parte comincio anche ad avere un po' di seguaci extra bresciani che il dialetto bene o male lo capiscono, ma magari non proprio tutte le parole e quindi io cerco di... ma che poi dopo alla fine dipende sempre dal flusso di coscienza che uno ha nello scrivere, cioè a volte ti vengono meglio delle rime in italiano, delle altre volte ti vengono più spontanee delle rime in dialetto. L'importante è mantenere la spontaneità e l'onestà intellettuale. E dopo due stati difficili in cui le esibizioni dal vivo sono state cancellate o limitate, ora si è tornati a fare musica live. Dai, finalmente insomma siamo ripartiti.